Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. In questo video vi faremo vedere una foto che è stata appena pubblicata, scattata davanti all'ospedale in cui era ricoverato Vialli. Vi leggeremo anche il commovente messaggio di Florenzi. Inizialmente si pensava che i funerali venissero celebrati in Italia, ma le cose non andranno così, infatti, si svolgeranno lunedì a Londra in forma privata. Vi parliamo ora di una foto che in questi minuti sta girando sul web. Lo scatto, che state guardando ora, risale a ieri mattina. Nell'immagine si vede una sciarpa blu cerchiata, legata ai cancelli del Royal Marsden Hospital di Londra, nel quartiere di Chelsea, dove Vialli si è spento. Grazie per le emozioni che ci hai regalato. È scritto nel bigliettino che accompagna la rosa bianca, attaccata alla sciarpa della Samp sulla cancellata. Ora passiamo al commovente messaggio di Florenzi, che in un post Instagram scrive. Non ho chiesto quasi nulla a Babbo Natale quest'anno, solamente che tu potessi rispondermi a quel messaggio, ma così non è stato e non lo sarà mai. Lasci un vuoto incolmabile dentro il nostro gruppo. Il tuo esempio di come hai affrontato tutto e della forza che incredibilmente tu davi a noi ogni giorno. Insieme siamo arrivati sul tetto d'Europa, ma tu hai fatto una cosa ancora più grande, sei rimasto nel cuore di tutti noi e ti assicuro, amico, che è più importante questo, di ogni vittoria. Ho fatto una promessa e farò di tutto per mantenerla. Quando farò la mia cinquantesima presenza in nazionale ti penserò. Ciao Gianlu, grazie per tutti gli insegnamenti che mi hai dato e che porterò per sempre con me. Riposa in pace campione di vita. Per restare aggiornato iscriviti al canale e attiva la campanella.